12 marzo 2017, 12.08, sono appena uscito dalla stazione dei Carabinieri di San Basilio dove ho presentato una denuncia nei confronti di Josef Elisiano Passafaro in arte Felis e Angelo Valero Lopez, amico in comune mio di Felis. Per due fatti distinti, un fatto risalente nella notte tra il 6 e il 7 marzo, più precisamente a l'una di notte del 7 marzo, con un lancio di sassi da parte di Angelo Valero Lopez alla finestra della mia abitazione a Roma e per un messaggio Whatsapp che mi è stato inviato in data, andiamo a leggere precisamente, 11 marzo 2017 alle ore 12.43 da Felis, sulla mia utenza cellulare, su Whatsapp, leggo purtroppo questa frase, metti un'altra cosa su di me, si intende su Facebook e te giuro stavolta te ammazzo. Credo che al momento non abbia nulla da aggiungere più.